Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Nella casa del grande fratello le emozioni sono sempre in primo piano e Jessica Morlacchi, ex cantante dei Gazzosa, ha recentemente rivelato di avere una cotta per una delle figure più affascinanti dello spettacolo italiano. Dopo aver inizialmente mostrato interesse per Luca Giglio, un altro inquilino della casa, Jessica ha puntato gli occhi su qualcuno di diverso, fuori dal contesto del reality, un medico napoletano che ha partecipato come tentatore all'ultima edizione di Temptation Island. Le sue confessioni stanno facendo parlare il pubblico e gli altri geffini, dando una nuova svolta alla sua esperienza all'interno del programma. La prima cotta di Jessica Morlacchi all'interno della casa del grande fratello è stata per Luca Giglio, un affascinante parrucchiere. La geffina non ha fatto mistero dei suoi sentimenti, cercando di costruire un legame più profondo con lui. Tuttavia il bel Luca ha subito chiarito le sue intenzioni, spiegando apertamente di vederla soltanto come un'amica. Nonostante la delusione iniziale, Jessica ha dimostrato di non voler lasciare che questo rifiuto influenzasse troppo il suo percorso nel programma, cercando invece altre distrazioni. Il vero colpo di scena è arrivato quando Jessica ha svelato il suo interesse per Luigi Scognamiglio, uno dei tentatori dell'ultima edizione di Temptation Island. Parlando con Javier Martinez nel giardino della casa, la Morlacchi ha chiesto informazioni su questo misterioso medico, rivelando che il suo fascino l'ha letteralmente conquistata. Luigi Scognamiglio, 33 anni, è un medico specializzando che, oltre alla sua carriera in ambito sanitario, ha deciso di partecipare come tentatore a Temptation Island. Non è la prima volta che Jessica Morlacchi vive intensamente le sue emozioni sotto i riflettori. Dopo il successo con i Gazzosà e un periodo lontano dal mondo dello spettacolo, è tornata al centro della scena con il grande fratello, pronta a mettersi in gioco anche dal punto di vista sentimentale. L'interesse per Luigi Scognamiglio sembra essere una delle dinamiche più interessanti di questa edizione.